maria qua è 32 contro 32 ci sono anche i veicoli è tipo guerra mondiale sì sì no è tipo guerra mondiale c'è ora è questa mappa si questa mappa è tragedia insomma vabbè questa è quella della beta mi dispiace che volevo farti provare l'altro che è bellissimo grazie a cero persone che campeano chi ha il 18esimo piano chi ha il 16esimo chi ha il 13esimo chi sul tetto mi trovi ovunque allora si è da me maria vai dove sta tante persone tanti alleava e dove sono tanti alleati stai insieme a loro ora ti renderai conto l'inferno l'inferno è questo cioè se vai in guerra vera non è così stat equipaggiamenti in equipaggiamenti cambiano puoi cambiare quando vuoi durante la partita vi saluto se vola si vola bombazza questa a sparare si è l'hai preso che era armato buono cerca di sfruttare il più possibile tanto verrà fatto esplodere in me che non si dica però quelli blu e quelli verdi quelli verdi siamo noi quelli blu sono gli alleati che non siamo noi si quelli dove non leggi i nomi sono quelli che riesce vedete quanta gente sta questa è la prima volta in colo di ma dò che bordello voglio aiuto io vado su di come al pazzo e ve lo dico già sto entrando su di la crema non si fa fare il missile no solo r1 r1 oh c'è capitano price con noi sono morto ma io come si fa fatto il missile perché eh no era lanciato di qualcuno madonna mio bordello bordello non fatevi vedere la cara armata che mi fa saltare in alle due secondi no dai vedo che stava nascosto quello non fate in alto che è più facile dai dai mi ha fatto non morire questo si l'ho visto l'ho visto ah uccidete a sto stronzo ma tu aiuto il bordello sta qua oh aiuto michael non deve andare sono esploso col 5 come siamo lì sotto oh fatemi bravo state vicini state vicini mi vedo dall'alto e uno è morto e l'altro è morto stava bene sta vicino spero vedo dall'alto vediamo vengo io sono gli alleato in sorvolo abbio scansione radar attacco a grappolo alleato in alto i nemici prendono alpha stiamo prendendo delta stiamo prendendo delta è morto eh è morto abbiamo preso delta stai dietro stai dietro ora andiamo a prendere seguitemi stiamo là vai sparate lì bene si buttate le granate r1 vai 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 doppia uccisione ragazzi si vuole eh si infatti vai 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 chissà com'è io ok ah ma qua doveva venire qualcuno mi sa no è gioco il c4 facciamo detonare come questo comando siamo sopra al centro detonato non era il c4 poi poi però ah però esplode si si no perché una volta lo feci saltare io pensavo che era una c4 lo feci saltare da vicino e morì attenzione qua che dall'altra parte dovrebbero stare oh l'ho preso abbiamo entrato al personale pronto a fornire copertura ah no stiamo dominando comunque no mi ha preso l'ultimo guarda 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 ricaricata con quello che fa strage è morto bravo bravo l'ho visto l'ho vista questa decisione finalmente hai seguito per ora sia un uomo si è un uomo davanti a me l'ha ucciso ho detto solo giù lo stavo andando a prendere e l'ho visto morire chi viene con me per un'impresa pazzesca su se non mi vede il cane armato se non mi vede il cane armato è fatto su e? si su e sto andando a fanno una pazzia allora ci sta uno in fondo sta uno qua uno qua ucciso ok 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 sta uno lì sopra ma non lo vedo uno la sopra lì come cazzo si pinga un altro è morto ce l'ho lì no mi ha ucciso peccato vai resistete resistete buono 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 sto comparando a voi mamma mia impresora il missile cruise alleato perdito quale ci manca se abbiamo tutte le bandiere si vince a tavolino è tipo cappotto è uscito coppa a distanza ma tu guarda li stiamo precisando un casino mamma mia dove l'ho andato a prendere questo no dobbiamo prendere tutte le bandiere siamo a metà strada combattete nemici abbiamo un radar personale mamma mia ti ho detto che questa era la modalità giusta li stiamo pressando proprio e stiamo devastando dai prendiamo a devo tornare indietro mo oh sta un cararmato qua eh sta un cararmato come lo distrugono bravo al sicuro ricevuto jaguar 3-0 in arrivo con copertura rapida attacco aggrappolo alleato i del rius abbiamo perso sì ancora qua sta sto cazzo di cararmato di merda Wilson nemico in zona si prendi lanciare alz no ma non è ucciso alleato il sorbono alzio di cassione radar qui jaguar 3-0 radar personale attento rientriamo guarda redifendere via come si fa lasciare sul tezzo da qua attacco aggrappolo alleato si sta una scala dappertutto missile cruise alleato partito ma vedo che stanno tutti i denti si alleato intorno avvio scansione radar qua è morto uno ok devo andare verso il cielo nooo porre prova a prendere il c prova a prendere il c prova a prendere il c prendiamo ecco no sta il botterno qui ho preso il c no sta uno ma sta su c su c su c su c su c ma dove la granata ci vuole no questo è c4 ah di dire c4 buono ok l'ho ucciso mi ha tirato la granata sta uno che ci punta eh si è buttato giù oh dove scappi basta dove scappava qua no non mi vedere non mi vedere non mi ha visto oh è bastato dire non mi vedere non mi ha visto abbiamo un radar personale approvvigionamento alleato no sta avendo B controlliamo Charlie ma bellissimo carro alleato in arrivo ricevuto giaco al prendere in arrivo no col pompa no col pompa no abbiamo perso B attenzione un bombardamento di precisione alleato in arrivo mamma mia bordello bordello no papà papà radar personale nemico in oh te mi parla male eh fottiti bastardi no poi fottiti madonna di me lo so fare che tu è paurosa elicottero d'assalto nemico in arrivo vado a tutti qua stanno uccisi due ucciso il terzo no tutti la stanno madonna mia mi sono affacciato due secondi dai ma Maria è qua che ti fa la terza eh con una bella granata di quello come questa questa centex magica non ha preso nessuno abbiamo perso Charlie con tre tappudo di Nikkev andiamo a fuori andiamo a fuori andiamo a fuori ai dai uccidetele no mi ha suonato a preso Uscito! Sì sì, sparate, sparate! Un lanciare alz, sparate o un lanciare alz? Ucciso un altro! Tirate una granata, un lanciare alz! Ottimo, avanzate, avanzate! Avanzate, ok! No, il ginocchio! Ma non ucciso! Bastardi, siamo morti tutti! No, è buona, è buona, è buona! Siamo 202, c'erano 32, stiamo vincendo! Stiamo prendendo Charlie! Guarda, guarda, guarda i punti rilassi che stanno vincendo! Stiamo prendendo Asma! Ah no! Prendete un lanciare alz! Prendete un lanciare alz! Dove stai a lanciare alz? Ascolto, lo prendo io! Ho preso un lanciare alz, io! Dove stai arrestando? Ehm, qua! Sto venendo, andando su C con lanciare alz! Radar personale inimigo in volo! Anche C! È quasi fatta per C! Toglietevi! Arriva lanciare alz! Arriva lanciare alz ragazzi! Attenzione! Attenzione! Boom! Ho preso uno! No, no, fucile a pompa è bugato! No, Maria, difenditi, che devo comparire su di te! Ottimo, ottimo, bravo! No, la granata! Attenzione! Lancia alz! Boom! No, uscirete a quello però! Bravo, questo ci... Bravo, Maria, stai resistendo! Ottimo! Così ricompaio sempre da te! C'è la nata! C'è la nata! Resistete! Resisti! Ottimo! Un altro assist! Ottimo! Ottimo! Ho ucciso un altro! Ottimo! Vai, Michele! Avanza! Avanza! Io vi metto qua! Sì, ottimo! Ottimo! Difendi là! Difendi là che arriverà il bordello! Tiro l'accercante! Accercante colpito! Colpito! Ci siamo! Ok, ok! Ok, ok! Sono morto io, Michele! Resisti! Eh... Sono morto! Anche le utane! Mamma di scuola! Ok, sto comparso da te! Sono comparso da te! Nooo! L'ho rilanciato! Sto comparso da te! Devo compare! Puoi compare dietro da me! UAP alleato in formolo! Avvio scansione radar! Avvio scansione radar! Radar personale di numero 2! Controlliamo echo! Scendiamo da qua! Non mi buttate! Che fa male! Attenzione! Bombardamento di precisione! Alleato in arrivo! Pistate! Nooo! Che cecchina! Abbiamo perso echo! Quattiamo! Quattiamo! Sto comparando da te! Stiamo prendendo delta! No! Sta lì! Sta lì! Rimani là! Rimani là! Sta nella porta! Ottimo! Ottimo! Abbiamo preso delta! Stiamo schiacciando! Continuate così! Nooo! No vabbè! Ucciso! La pompa è buggata proprio! Cioè non è normale! Sì! Ma il problema è che... Quanti le uccidi! Sto facendo una strage ragazzi! Un radar personale pronto a fornire copertura! In combattimento! Un radar personale pronto a fornire copertura! Un radar personale! Un radar personale pronto a fornire copertura! Eh dai! Vaffaccuno! L'ho ucciso! L'ho ucciso! Compari da me! Compari da me! Compari da me! Dimmi quando hai fatto! Dimmi quando hai fatto! Sto accanto a te! Ok! Ottimo! Boom! Se ne vanno con la coda tra le gambe! Beh è fatto! Ma 32 ci sono! Si fa schifo! Eh ragazzi! Epple da me! Pum! 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 Grazie a tutti